Dal lancio Leader Cell Diversified Strategies ha prodotto un rendimento positivo di circa il 2,35%, 1,77% da inizio anno, con una valorità realizzata che si attesta al di sotto del 3%. Nel complesso tutte le strategie presenti in portafoglio hanno contribuito positivamente. In particolare stimiamo che la strategia beta, corredata dagli interruttori di rischio, abbia contribuito per circa 92 basis point. Le strategie a valore aggiunto, sviluppate internamente, hanno contribuito per circa 170 basis point. Infine le strategie alfa sistematiche e discrezionali gestite da terzi hanno contribuito per circa 4 basis point. Questi primi 5 mesi di vita di Leader Cell Diversified Strategy sono stati caratterizzati da diverse fasi di mercato, caratterizzate da avversione al rischio o propensione al rischio. Analizzando la dinamica allocativa del prodotto possiamo sostanzialmente identificare tre fasi differenti. Una prima fase in cui la componente obbligazionaria governativa di paesi con merito creditizio elevato è stata preponderante nell'allocazione di portafoglio. Questo è dovuto al fatto che questa componente aiuta a ridurre le perdite in caso di turbolenze di mercato. Questa allocazione è stata la risposta al problema sul fiscal cliff negli Stati Uniti, ossia all'accordo che si è verificato in extremis sul finire dell'anno, un accordo fiscale per cui i democratici e i repubblicani hanno dovuto convenire a tagli fiscali mirati. In seconda battuta, l'allocazione alle obbligazioni governative è scesa nei mesi di gennaio e febbraio. La risposta è ai trend di mercato in atto. L'Edercell Diversified Strategies è riuscito ad adattarsi in modo brillante, direi, grazie agli interruttori di timing all'interno della strategia beta, beneficiando così appunto dei trend di mercato dei primi due mesi dell'anno. Immediatamente dopo le elezioni italiane possiamo identificare una terza fase in cui le turbulenze dovute all'accordo e al salvataggio del sistema bancario cipriota hanno portato nuovamente incertezza sui mercati finanziari. In questo contesto la componente obbligazionaria governativa è stata nuovamente incrementata sui titoli di Stato tedeschi prima e poi su quelli statunitensi ed inglesi. Nel frattempo le strategie a valore aggiunto sono state in grado di cogliere le opportunità per le quali sono state disegnate e progettate. Sul finire dell'anno e sui ribassi di mercato legati alle incertezze sull'accordo fiscale hanno aumentato la componente azionaria beneficiando anch'esse dei trend di mercato susseguenti. Una seconda strategia a valore aggiunto che si basa su relazioni economiche fondamentali ha correttamente interpretato i dati macroeconomici rimanendo investita sul mercato azionario americano. L'Idersal Diversify Strategy attualmente ha un portafoglio ben bilanciato grazie alle tecniche di risk budgeting utilizzate, la componente obbligazionaria governativa di paesi con basso rischio di credito è attualmente a circa il 60%. La quotazionaria è recentemente scesa a circa il 17% grazie agli interruttori di rischio presenti sulla strategia beta. Il restante è all'incirca il 10% su azioni americane e un 7% suddiviso tra azioni di paesi sviluppati europei ed asiatici. Le guiazioni con rischio di credito si attestano a circa il 20%, commodity e settore immobiliare al 6% e la parte valutaria al 4%. Pertanto attualmente il fondo presenta un'allocazione più prudente rispetto ai primi mesi dell'anno. Questo secondo noi dovrebbe consentire di sopportare eventuali shock di mercato in modo più soddisfacente. Rispetto ai concorrenti da inizio anno abbiamo notato che le strategie simili che non adottano interruttori di rischio abbiano sofferto in modo significativo rispetto al nostro fondo. Tutto sommato ci possiamo ritenere soddisfatti dell'impianto che abbiamo dato al fondo e siamo soddisfatti del posizionamento nei confronti dei nostri concorrenti.